Bentornati qui sul mio canale di gaming, oggi appuntamento super importante perché dopo due pack opening in cui sono stato malamente insultato da Ron, siamo qui con Ron, ciao Ron Ciao, ciao Dredone, ciao a tutti Per una sfida a chi sarà più sculato, lo possiamo dire, perché di questo stiamo parlando Eh sì, oggi mettiamo su una bilancia i nostri due deretani e vediamo quale dei due sarà il più pesante Ci facciamo una sfida sfruttando i pacchetti promo, fra poco vi spiego le regole Prima di iniziare ovviamente vi ricordo di lasciare un like, di lasciare un commento Venerdì o comunque a fine settimana o comunque a giorni uscirà anche sul canale di Ron la sfida numero due In base a come finirà questa vedremo chi sarà o il vincitore o finirà in pareggio, non lo so ma questo lo scopriremo solo vivendo Oggi ci andremo a fare una sfida con il pack opening, abbiamo ben, se non ho contato male, 25 pacchetti promo Ieri sono uscite delle carte speciali che ovviamente ci tengo a dire nessuno di noi due troverà No, assolutamente, ma guarda io poi fino adesso la cosa migliore che ho trovato è un musiala ieri per sbaglio Oggi sfrutteremo i pacchetti promo, ma in che modo li sfrutteremo? Faremo una gara Chi troverà ovviamente le carte migliore riceverà ovviamente un punteggio migliore Si andrà a sommare e alla fine del video chi avrà più punti vincerà questa straordinaria sfida Abbiamo creato delle piccole regole, dato che il senso del pack opening è quello di avere più punti possibili con carte più forti tra virgolette possibili In questa sfida infatti otterremo un punto per ogni carta 84 trovata Due punti per ogni 85, tre punti per ogni carta 86 o 87, cinque punti per ogni 88 o più Ed inoltre avremo 0.5 punti in caso noi trovassimo un if e per ogni carta dal valore di 100.000 crediti o superiore otterremo un punto extra Abbiamo vari pacchetti, io inizierei ovviamente da quelli più scrausi Finalmente la possibilità di Ron non di ricevere più messaggi vocali ma di viverlo Ah dici io speravo di riceverli io, un po' di insulti vuol dire che avevo sculato invece semplicemente dovrò dirteli yearl Se voi possiamo iniziare con pacchetto allenamento RTTK settimana 1 Ne abbiamo due, premo quadrato e apri il pacco Ok sono sui FIFA Points, tu ci sei? Si 3, 2, 1, apri Vediamo un po' subito Non è walk out il mio Neanche il mio, tranquillo Argentina, Bundesliga, CC È proprio lui, Bayern Leverkusen Chi cazzo è? Guarda la prima bestemmia eh Io ho trovato Palacios Eh io Casemiro È crollato Casemiro Eh sì a 38 di velocità, un punto per me Anche io ho fatto un punto Il primo è andato, la situazione è di pareggio Secondo pacchetto, te dico via quando clicco sì, non quando clicco FC Points Apri Dammi un walk out, fammi godere Magari Walk out, fermi Fermi walk out CC, Argentina, Premier League, Liverpool Ah no 86 McAllister Fa cacare Assolutamente sì Ma questi sono punti Oh io Robert Sono 85 Sono 2 punti Vediamo se c'ho qualcun altro sotto 1 86, 1 84 frate Anch'io in 85, 1 84 con Grilish Quindi sono 2 più 1 3 punti Te ne sei in vantaggio di 1 Li mortati Io 3 più 1, 4 Primi pacchetti volati La situazione è 5 a 4 Direi di aprirci 12 oro premium a sto punto A questi secondo me sono proprio quelli in cui se trovi qualcuno sei la persona più fortunata del pianeta Dammi un altro walk out back to back, grazie No io non li vedrò Niente Non li vedrò proprio No, 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 no Cop Miners 83, non vale Tranquillo, io ho trovato un 80 Easy Terun Terun? Terun Terun? Hai detto terrone bastardo muori? E' questo quello che ho sentito uscire dalla tua bocca? No, non ho proprio detto questo, erano altre parole Dai che qua trovare un walk out ti... Walk out, fermo! Ma hai rotto il cazzo, ma sei già a secondo! COC, Germania, Bundesliga Dammi un altro 86 Oh, Bayern Monaco Musiala, bro Musiala? Frate, Musiala 87 che mi fa il torero Bro, costa 100k, Musiala Ma che stai a dir? Ma questi sono punti e soldi L'ho venduto ieri sera a 108 io, 109 115, questi sono punti in più, frate E' un più 1 oltre all'overall quello, eh Questi sono punti in più Io in compenso ho 2,84 Frate, questo è il mio anno Io lo dico qui, quest'anno trovo un toti La domanda è, arriverai a giocare ai toti? La domanda vera è, finirò in miseria prima dei toti? Ci sono un po' di opzioni prima di arrivare ai toti Ci sono delle opzioni Questo è un altro walk out, me lo sento Io voglio un walk out, vi prego Non mi dà il walk out, dammi almeno la gioia di trovarne uno Frate, ma attanto questi pacchi, ti ho detto, se trovi il walk out qui sei veramente fortunato Washington Spirit, portiere delle donne Musiala da 100k, ma che cazzo stai a dire? Pofanare, 80 ho trovato Io ho il re della sborra, Kingsbury Perfetto E' una donna ovviamente, perché Perché è la regina Perché è la regina della sborra Fammi godere E' una tipa, non walk out però la tipa No, tranquillo, non walk out neanche, manco il mio No, anche una tipa, attaccante canadese, ma basta 83 ho trovato Oh, la Walsh, 85 Allora vedi che ti lamenti Zì, ma porco 2, va bene la sfida Ma a me che cazzo me ne frega dalla Walsh Io devo battere te, ma devo battere la mia sfiga Fermo Che hai fatto? Un bellissimo IF 84 Ma questo è il pacchetto che ti fa tornare dentro, eh E' 1,5 punti Quindi sono 3 punti e mezzo sto pacchetto Eh, sono grossi punti Chi è l'IF che hai trovato? Mittelstad Vabbè, il famoso 3, 2, 1, vai Niente Non walk out E' uno di quei momenti in cui vorrei perdere il video Ma vincere un pacco singolo, capito? Io sto trovando solo donne 81 Ma chi è questa? Persone mai viste Ma illuminatevi, vi prego Niente Oh, zì, non si illumina manco a morire A me quella roba E l'unica volta che si è illuminata l'ho schippata recentemente Perché sono abituato a schippare che non trovo mai nessuno Eh, ma devi aspettare Questa è la cassette È la cassette 82 Ma verner è crollato, ma che gli è successo? Eh sì, però in game lo usano Perché c'ha 91 di velocità Niente, comunque nessuno Mamma mia, che brutti La cassette quanto sta Ci siamo? È un po' che non trovo niente, eh Videogame, dai Niente Vabbè, ma questi pacchi, ti ho detto Sono un po' così, dai E di Spagna, la Ligia Per cercare di farci fare quei punticini sculati qua e là Questo è sempre Palacios, vuoi vedere? No, 83 Marcos Llorente Palacios, mi prendo un più uno, grazie Gratuito Ron, mette la freccia Sì, ma con dei punti poveri Tu sei triste solo perché ho trovato un giocatore Che mi dà 100.000 crediti sul gioco Eh sì, io vorrei perdere, però avere 100.000 crediti in più È quella la roba 3, 2, 1, apri Illuminati È un maschietto Io vivo proprio con la speranza di vedere quelle due barre illuminarsi Nooo, da Michael Walker Niente, Pau Torres, 82 Daccia il brivido Niente No, 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 no DC Allora, TT Francia Ligan Cos'è? Barcellona Yes Ah, ok, tu Ho detto Ligan e Barcellona È strano No, no, il mio, il mio Kristen, sono 83 Ragazzetta, 82 Pure la gazzetta ha subito un crollo, eh Terz'ultimo pacco Se non ho visto male Walkout Eh, vaffan COC Olanda No, donne Manchester City Olanda, donne Però è overall 86 Vabbè, sono 3 punti Magari mi danno 84 sotto No, 82, 83 Io so boss la Io ho trovato Gesù Cristo Ma intanto però 2 walkout da sti pacchi è oro, eh Sì, io sono a 0 walkout trovati per il momento, eh Sto reggendo la sfida Con piccoli punti rubati qua e là T'anda bene Back to back, me lo sento Dammi uno, dammi uno Non è walkout Ma perché tu, tu lo stai, lo stai farmando, te fidi di me? Dammi che è il walker però Porca troia, un altro terzino destro inglese Oh, white Un punticino 84 di over Eh, io ho di Mario 83 Sono povero di 84 Non li trovo Non li trovo Però la miglia male Non l'avrò trovato di 65 in 3 giorni Ultimo pacco? Ultimo pacco Do io il via Perché quando do il via io Trovo il walkout io 2 1 Via Impazzisco, eh? No No, no, no Non c'è niente Nessuna macumba che può servirmi No, ATT Ucraina Serie A Oh, però è 84, eh Dovbic Me l'ha svoltata Dovbic più 1 Cazzo l'hanno fatto veloce Dovbic Ma è una branda Guardate, se questo prende una carta speciale Guarda, diventa un fenomeno, eh Still, 0 walkout Si vola Quindi abbiamo terminato i secondi pacchetti, diciamo Ci possiamo concentrare sui giocatori Europrime Abbiamo la doppia possibilità di trovare Prima erano 3 rari Qua sono 6 rari a pacchetto Di cui 1,82 più garantito Oggi nell'ultimo pacco c'è il 68% di trovare un walkout Sarei, ora è che lo Voi vede come lo schippiamo Io farò gli altri 32% 3, 2, 1, vai È qui che si sogna È qui che dobbiamo rimanere Niente No Italia, serie B ad Italia, fratea Che è, Werner veramente mi ha dato Frate, ho trovato uno del Sassuolo Perardi Io Avers E non è 84? No, 83 Avers Ho trovato un paio di fighe però Che dopo cerchiamo su Instagram Io tutti maschi in sto pacco Eppure brutti e poveri C'è sta Beh, poveri, oddio Non credo Poveri di crediti per me Secondo pacco di questi speciali ci sei? Fammi vivere, fammi vivere il sogno Niente Walkout Hai visto, a chiamarlo Alla sinistra, Brasile Vinicius Neymar Ma come Neymar? Neymar Ma come Neymar? Vedi, te la metti Neymar, Dreddo Stai a piagno Neymar Tu stai a, vedi a piagno Tu va avanti a piagno La mia prima sculata dell'anno Sul canale del Dreddo Impossibile, così Impossibile comunque Non fare un video Va come Neymar Sul mio canale In cui non si trova qualcuno Minchia, zi Fingiamo di fare il prossimo Sempre sul tuo canale E poi lo carico io Quanto costa? Eh, Mar Junior Mi sa che Boh, non lo so se è ancora Sui 150 143 mila crediti Non dico che sto già contento così Ma sto già contento così No, non devi far capire al gioco che sei contento No, no, sto tristissimo Dai, dai, dai Devi continuare a piangere Back to back No, no Back to back, frate Back to back penso sia una cosa più improbabile che possa accadere Cdc Brasile Premier League Newcastle Cdc dell'Inter col Serpentino Oh, 85 Bruno Chimaraes Fermo Brunello Con due punti golosi Con due punti gratis Che magari sotto ce n'è anche un altro Che dici? Me lo dai un 84? No, niente Non me do niente Va bene, due punti Abbiamo dimezzato quello che hai fatto con Neymar Bruno Chimaraes vale metà Neymar Insomma, però 3, 2, 1 Vai Fammi vivere il sogno Oh, no Cc Francia Arkema Premier League Ma basta Chi è chi è? Ghirassi questo Oh, 84 però Un bocca Eh, io Ghirassi 84 anch'io One point Come se nessuno avesse fatto niente allora Oh, doppio 84 Ghirassi delict Dai, Illuminati di Menso un'altra volta Oh, TS Scozia Premier League e Robertone Questo è 84 Mi da un altro Casemiro spacco lo scherzo Ah, ecco Mi ha dato Si ha copiato Un bel Brunello Ghimaraes Ah, no Robertone è 85 Sono altri due punti Ti hai trovato? Robertson Buono Eh, due punti anche con Brunello Ghimaraes E sotto nient'altro però Ne mancano se non sbaglio tre, no? 3, 2, 1 Vai Illumina lì Ok, walk out Fermo DC Spagna No, femminile Sì, io non ce la faccio più Sono oggi Vabbè, potrebbe essere la Irene Paredes 88, eh Barcellona? Eh È proprio Irene Paredes Porco Dio 88 sono 5 punti 5 punti, frate Me l'ha svoltata una donna 5 punti di inutilità, porca puttana E magari sotto c'è altro, eh No, sotto sono 83 Non costa mai questa donna, vero? No, però Sono 5 punti Vale più di Neymar Irene Paredes Abbiamo sbagliato qualcosa Irene Paredes Maggiore Neymar Me lo segnerò per sempre questo Back to back Lo sogno No E niente, niente Comunque siamo 4 walk out a 1, eh T'ho detto, è il mio anno, eh Sono sculato quest'anno È il tuo account È l'account sculatissimo No, difensore della Lazio No, chi cazzo è Rafa, dai Romagnoli Vabbè, per adesso abbiamo un Neymar Musiala come top credit player Vabbè, non è male, dai Dai, walk out, amici L'ultimo è walk out, è clamoroso o no? Non è walk out No, non è walk out Cos'è la Roche in Arabia? Non è a che? Non è a che? È Van de Venne, è vero? Ce l'ho anche, bravo coglione Cosa, è 84? No, è 82, Dredd'O Ma? Costa Spoiler Van de Venne Sta a 40 almeno, eh Eh, allora sti casi Ah no, dici per il tuo account Oh, per me vabbè 48 e mezzo sta Van de Venne Fammelo mettere in vendita istantaneamente Allora, mancano 3 pacchi Che sono gli essenziali inizio stagione E il pacchetto base RTTK Che è Road to Knockouts Immagino Knockouts, sì Andiamo ad aprire i pacchetti essenziali Inizio stagione 10 oggetti giocatori orrorari Con valutazione 81 o più Vediamo le percentuali 86 più Frate, 42% Eh, qua devo sculare tipo un Oblak, no? Sai, quell'over o l'alto che A parte che dall'88 in più va bene qualsiasi Ti sono quando vuoi 3, 2, 1 Via Vamos Walkout Ovviamente, non walkout Walkout, a di Salah Ho trovato Salah No, zi, dai È proprio lui L'egiziano d'oro Il faraone Momo Salah 89 Che bello Guarda come gioca No, ma come 89 Zia, hai stravinto Guarda come gioca a pallone questo Cristiano Ma poi perché nella Ma perché il giocatore in game C'ha i capelli ricci ancora Alex Remiro ho trovato 1,84 ho trovato in sto pacco Momo Salah E sotto, frate, te dirò di più Ho trovato Salah 89 Girelli 85 Ma in più c'è anche Camavinga Così Quindi sono, fammi fare conto 5 punti di Salah 2 della Girelli 7 punti Eh no, esperta E Salah costerà più di 100k Ah, cazzo È vero Salah costa Frate, ma costa 300.000 No, zi, in che senso Costa 300.000 Crediti Bro, tu trovi 300k A video Di giocatore La fronte a Bellinga Te lo giuro Ma è questo Sto spendendo troppi soldi Fermatemi Cioè, non devo più trovare niente Ma però Cioè, però ti rientrano Capito Ha senso spenderli Se sai che ti rientrano così Quindi sono 8 punti No, ma zi Possiamo anche Puoi mettere Win e Lose Nel punteggio È finita Vabbè, abbiamo gli altri due Perché qui non è finita Perché qui manca la carta blu Eh, io senza carta blu Non me ne vado Vabbè, adesso trovo un Bappevi In quel video, vedi Guarda che sarebbe assurdo, eh Questo è un altro walkout Dei figli del teletone Walkout No, vabbè DC Francia No, è donna È donna È donna Arenardo 88 Lione Sì Dai, vabbè Io un 83 ho trovato Un 83 ho trovato io, eh Vediamo sotto chi c'è Ah, c'è anche Polina 85 E Bright 85 Bro, ho trovato Guardiol E Jackson Ho trovato un 0.5 Perché è un if Dai, yeah Ha fatto 9 punti Sto pacco Ragazzi Vedi A collaborare con la EA Che gli danno i pacchetti giusti, eh Frate, 17 punti in due pacchi Ma non è finita qui No, infatti Può peggiorare ancora La differenza tra me e lui Perché c'è un ultimo pacchetto Pacchetto basi Road to knockouts 20 oggetti Giocatori orrorari con 80 più Di cui 3, 83 più garantiti Frate, 68% di 86 No, zì No, zì Leghi, c'ho il 32% mancante nel mio pacco Inutile che continui a farlo ogni volta, dai Qua te porti a casa almeno 9 punti Mi basterebbe un walkout Per avere un secondo walkout nel video 3, 2, 1 Vai Non walkout Cdc Germania Bundesliga Kimmich Penso di sì Bayer Monaco È proprio Kimmich Jodovic Ah no, è una donna Scusami Oberdorf Jodovic Un punto No, zì È follia 84 Neanche l'85 Mi ha dato 84 Solo un 86 però Peccato Sì, ma io posso Va bene Ho trovato nei mark Non mi posso Però Cristo Un walkout Su tutti sti pacchi Allora ti chiederei di fare il conto Ma giusto a livello statistico 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 31, 43 Undici e mezzo 22 totali Perdono io Dai Oh, bravo Sei più di metà Ovviamente Il video è stato portato a casa Da Possiamo dirlo Che sono Attualmente fortunato In questo primo periodo Lo ammetto Fortunato nel gioco Sfortunato in amore Forse mi vuole lasciare la mia ragazza Non lo so Glielo chiederemo A breve Anche perché io attualmente Preferisco Un momo salà All'interno di un pacco Sicuramente senza dubbio La maggiore della fica Come ho detto all'inizio video Nei prossimi giorni Uscirà l'episodio 2 Sul canale di Ron Che sarà la tua vendetta La tua redenzione Spero di avere la mia redenzione Altrimenti non vedrete mai più Me aprire un pacchetto online Io ringrazio Ron Ringrazio voi Ma soprattutto ringrazio EA Sports Per questo contenuto sponsorizzato Grazie mille Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao